scopriamo insieme un gelato fantastico o almeno speriamo che lo sia una novità imperdibile eccolo qui il raffaello della ferrero vi farò sapere che ne pensiamo allora gabri com'è? ti piace? si sente il cocco? il cioccolato con le scagliette com'è? allora adesso faccio la prova io vediamo come risulta sembra proprio di mangiare un raffaello solo la consistenza è diversa si sente il cocco si sente il cioccolato e proprio il raffaello veramente è venuto molto 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 bene davvero complimenti ora aspettiamo di provare il ferrero rocher vero gabri? come deve essere vero lo penso anch'io alla prossima grazie a tutti